Renato Sergi, abbiamo insistito e insistiamo sul fatto, ne parlavamo ieri al Museo regionale di Messina proprio su questo aspetto, di quanto questo è un vero grande laboratorio a cielo aperto, da tutti i punti di vista, fisico, idrodinamico, da cui ancora credo, non con la conoscenza ovviamente sua e di chi fa ricerca su questo territorio, da cui c'è ancora tanto da scoprire, tanto da imparare e forse ovviamente tanto da ottenere. Ci racconti un attimo brevemente un po' quello che sta succedendo su questi temi e cosa state portando avanti? Io mi occupo fondamentalmente di risparmio energetico, quindi di natura, di salvaguardia della natura e diciamo lavoro con tantissime realtà, amministrazioni, dalle più piccole alle più grandi, ma le problematiche come giustamente è stato detto prima sono praticamente comuni a tutti. C'è un po' in balza l'idea che occorre modernizzare tutto, io sono contrarissimo alla modernizzazione di tutto quello che ci circonda, in particolare degli impianti di pubblica illuminazione per fare un esempio. Oggi c'è la corsa a installare delle lampade LED quando invece dal punto di vista proprio visivo, naturale, voi sapete che ci sono tantissimi architetti qui, la luce gialla è considerata ancora la più attinente alla visione umana, eppure si sta a tappeto facendo operazioni di questo tipo di sostituzione. Quindi si tolgono evidentemente degli apparati, ad esempio tipo le lampade artistiche, che avevano un'attinenza con il territorio, con l'ambiente, con l'illuminazione ad esempio di piazze, di monumenti, eccetera, depauperando in sostanza quella che è la bellezza naturale che comunque va mantenuta. C'è un po' di ignoranza in tal senso perché tutte le amministrazioni comunali e noi tutti, me compreso, quando si parla di cose di questo tipo, siamo attratti dalle novità in sostanza. Quindi ti si presenta l'industria di turno, il rappresentante di turno ti dice questo è non plus ultra. Tralasciando gli aspetti molto più cogenti, più legati all'essere umano. In questo senso c'è tantissimo da fare. Vi faccio un esempio tipico. Un paese piccolo, voi sapete che può avere non più di 3-4 mila punti luce, se parliamo di una città come Reggio Calabria arriviamo a 40-50 mila, allora è troppo semplice dire sostituiamo tutto perché è business in sostanza. c'è la possibilità di fare ben altro, cioè fare in modo, e ci sono le apparecchiature che consentono di fare una, diciamo, di ottenere lo stesso risparmio dalla semplice mera sostituzione con l'applicazione di apparecchiature specifiche che esistono, sono sul mercato, però siccome sono una minima parte, non vengono chiaramente, diciamo, incentivate. Questo per dire, per parlare dell'argomento luce. Non parliamo dell'argomento acqua, quindi parliamo di risorse. L'argomento acqua è un altro argomento molto, molto ostico. Io provengo da una realtà milanese, ho lavorato per vent'anni in una multinazionale a Milano. Mi ricordo all'epoca, parliamo del 1980-85, la mia azienda, la mia multinazionale, fece un impianto di telecontrollo, un impianto di depurazione Comodepul, dove, voi sapete benissimo, nella zona di Cono c'era tutte le attività legate alla conceria, quindi alla pelle, eppure si parlava di telecontrollo in questo ambito, quindi, uno degli ambiti, quindi delle fogne, della rete fognaria, già 40 anni fa, diciamo 35 anni fa, bene, la nostra situazione in un ambito colabrese, voi sapete che è disastrosa, cioè escluso magari la città metropolitana, dove questi tipo di problematiche sono abbastanza sentite, quindi c'è una realtà tecnica diversa, nell'ambiente circostanza, nei comuni piccoli, fate conto che è come se non esistesse l'impianto di depurazione, effettivamente è così, eppure basterebbe veramente poco, ma veramente, veramente poco, per rendere, diciamo, autonomi, automatici e compatibili con l'ambiente tutto quello che facciamo. Questa qui è la più grande becca che noi abbiamo, in buona sostanza. Che cosa manca? Manca la cognizione, la, diciamo, la professionalità in seno alla pubblica amministrazione. Qui in questo potrebbe essere d'aiuto alla città metropolitana, che si dovrebbe far carico dell'aspetto tecnologico, cioè di tutta la parte relativa alla tecnologia applicata ai casi reali, perché è impensabile che i comuni, che voi sapete meglio di me, hanno dei problemi gravissimi sotto l'aspetto dell'amministrazione, dei fondi, eccetera, eccetera, possono autonomamente, e qui mi riallaccio al discorso complessivo, che può essere legato, diciamo, alla provincia o più che alla provincia, debbano mettersi insieme in un unico consesso tecnologico che governi, in qualche modo, diciamo, tutti gli aspetti relativi ai servizi. Questo qui è un aspetto fondamentale. La Regione Calabria, da questo punto di vista, non esiste, perché non ha mai dato indicazioni in tal senso, per cui io credo che il discorso della Biennale, a mio parere, possa, in un intento comune, far sorgere quel minimo, quel barlume di, diciamo, di organizzazione legata all'ambiente, legato al modo di vita, legato a una serie di cose che ormai sono fondamentali. Non è pensato. Noi siamo indietro di 40 anni, è inutile che ci nascondiamo da questo punto di vista. Cioè tutto quello che dobbiamo fare, dobbiamo farlo in funzione della, diciamo, della comunità. E siamo veramente indietro. Quindi se non si fa qualcosa in tal senso, e io mi occupo di ambito tecnologico, veramente non riusciremo mai ad arrivare ai risultati che altri hanno da 40 anni. Insomma, è pazzesco. Ti ringrazio due spunti, poi passo la parola a Gettano e poi il secondo giro a Giorgio. Due spunti ci vengono automaticamente spontanei dalla tua riflessione. Da un lato, introduciamo un'altra parola su quale, che l'abbiamo presentata anche nella trilogia dei nostri video sull'acqua, che è Equilibrio. Lo dico per il primo tema. Il tema che tu hai descritto sulla luce non è solo qua, nel senso che è una città come Genova, che d'amblè, tutto il centro storico è stato equipaggiato con dei sistemi luminotecnici che rispondono ad un aspetto, ma oggettivamente lasciando poi il corpo. Insomma, è stato fatto un kamasutra terribile, diciamo, di risposta, che non è piaciuto nessuno, perché, va detto, le amministrazioni hanno anche le loro difficoltà, ormai col tipo di servizi che hanno fatto con una serie di procedure, tali per cui devono andare a scegliere dentro delle aziende. Comunque il criterio anche comunque che vengono affidati è un po' perverso. Quindi c'è sicuramente una condizione di mettere a punto e quello dell'equilibrio, un qualcosa che non sia solo normativo, ma anche di capire qual è la giusta risposta, anche mettendo in gioco il rapporto col tempo. E sicuramente quello che è venuto fuori più volte in questi giorni è la coscienza che oggi non si può andare troppo per sintesi, ma che la complessità è un valore su cui bisogna ritornare a lavorare, anche perché dà una forte specificità. L'altro aspetto, ovviamente, infrastrutturale è significativo, sicuramente è noto, però oggi, almeno per quello che è l'approccio per le biennale, bisogna rovesciare un po' il canocchiale, immagino anche quella oggi da situazioni di delicatezza facilità diventano opportunità, perché oggi, se si vuole, si può risolvere più velocemente, forse anche portando dentro subito l'innovazione rispetto a un sistema che magari oggi, lo diciamo anche perché nella biennale, una delle prime risposte, e questo mi permette poi di passare la parola a Gaetano, avendo avuto come ospite, abbiamo inventato Marc Barani di Nizza, Grand Prix de la Cittature, membro dell'Accademia Francese, è stato già avviato, è il motivo per cui era qua e non è potuto venire all'Enfilippe, ma verrà, una prima sinergia forte con una città come Nizza, che vuole essere parte integrante, diciamo, di questo evento, ma soprattutto perché vuole creare una biennale sullo stesso spirito legato al paesaggio, in un contesto di una città in cui, pur essendo Nizza, ed essendo l'abba aeroportuale più importante del sud Europa, tutta una serie tematica, come quello che hai descritto, le possiede lo stesso, così come le possiede Genova. Questo per dire che forse oggi il tema, e chiudo sul terzo aspetto che ti ho toccato, oggettivamente, lo diciamo anche da professionisti, però a tutto livello, noi lavoriamo in tutta Europa, non c'è come dire, ahimè, differenza, oggi il problema più grande è, tra virgolette, concedertemi l'incompetenza, ma non tanto l'incompetenza perché uno non è preparato o meno, è che oggi le situazioni tecniche e l'evoluzione vanno estremamente veloci, dal punto di vista normativo, lo sapete voi benissimo, che stare dietro oggi in questo periodo di ricerche, di bandi di finanziamento è molto difficile, perché bisognerebbe essere super legali, super amministrativi o meno, e neanche loro ci riescono, tanto di più sulle altre aspette, che vuol dire che in maniera molto veloce, oggi l'innovazione che si può portare ha bisogno di una struttura interna, esterna di dialogo che sia un po' sempre al passo. Quello è un gap, però, come avete detto, a Biennale non si vuole proporre come evento, ma quello che stiamo dicendo, ma come un laboratorio internazionale di ricerca, perché se si va a costituire veramente a questo laboratorio, anche per il territorio, cosa vuol dire? Che si potrebbero avere 10, 20, 30 intelligenze nazionali, internazionali e locali che lavorano sul territorio, ma con un rebounding internazionale, capaci di provare a entrare in questo periodo, ma soprattutto a educare, a formare un approccio che diventa libero dal punto di vista di una serie di questioni che sono fisiologiche, potremmo raccontare tante, di tante amministrazioni che apparentemente il nord potrebbe dire, per quello che noi abbiamo fatto questo disegno in cui rovesciamo il nord e il sud. Nizza francese, Nizza di Sicilia, tra l'altro questa coincidenza tale per cui Marco Varani scopriamo che i suoi nonni, bisnonni, sono nati a Dalì, che è il paese attaccato, che noi abbiamo visitato nel viaggio dove c'era questa tradizione termale che si vorrebbe recuperare e quindi si è creato subito questo gemellaggio stradiano in cui c'è questo sistema di coincidenza. Allora, Gretano Scarcella, come vi ho detto, mille aspetti, Nizza di Sicilia, è un comune che ha un nome artisonante, per Nizza di Sicilia, forse anche meglio di Nizza della Costa Azzurra dal punto di vista di Sicilia, Sicilia. Raccontaci un po' anche questo tuo duplice, ma anche in virtù di quello che hai appena sentito, quello che potrebbe essere in Inizio di Sicilia è anche un'attività come nuova giunta diciamo che oltre, vabbè, poi tu sei anche nel Consiglio dell'Architetti, quindi ti tocca tante responsabilità. Sì, tante responsabilità e in effetti prima guardavo alla Biennale dello Stretto e diciamo a ciò che ha preceduto la Biennale dello Stretto, ovvero Mediterraneo Invisibili, da architetto, da consigliere dell'Ordine degli Architetti, immaginando un po' tutti gli aspetti legati alla biennificazione. Devo dire che adesso è entrato in questa kermesse politica da quattro mesi, ci siamo insediati dopo il 13 giugno, quindi fra poco facciamo quattro mesi i primi cento giorni. No, no, in realtà qualcosa l'abbiamo già fatta. Devo dire, una prima riflessione mi viene da questo, guardando all'esperienza della Biennale, cioè c'è una città che descrive Italo Calvino nelle città invisibili ed è una città in cui lui arriva e vede una città bellissima con tutti i neon, con le luci, con i templi, con le chiese e si innamora di questa città, sembra quella giusta, appropriata. Si sveglia la mattina e la città non la trova più e allora chiede ma che cosa è successo? Beh è successo che, come spesso succede, questa città viene smontata, vengono smontati i frontoni dei templi, vengono smontate le insegne e la città va via e scompare. Allora noi dobbiamo essere bravi a far sì che questa città che è la Biennale dello Stretto permanga in questi territori e allora la cosa importante e un ruolo fondamentale in questo potrebbero averlo proprio le città metropolitane, le due città metropolitane perché nella diciamo anomalia delle città metropolitane di Messina e di Reggio che di fatto sono territori metropolitani, non sono delle città vere e proprie come potrebbero essere Milano, Torino che hanno un interland più legato, noi abbiamo una situazione un po' più sparuta, ecco le città metropolitane potrebbero avere il ruolo di attori capaci di mettere in sinergia gli interventi e questa cosa è quanto mai urgente adesso che c'è una pioggia di interventi e di finanziamenti proprio grazie al PNRR ma il rischio qual è? Il rischio è che questi soldi arrivano nei nostri territori ma non servano a risolvere i problemi strutturali di questi territori, cioè noi non riusciamo da singoli comuni ad avere una visione che ci consenta di affrontare temi importantissimi quali quello dell'energia, come facciamo a risolvere in un comune di 3.500 abitanti il problema dell'energia? Il problema dei rifiuti, stessa questione, il tema del paesaggio, il tema delle infrastrutture, il tema della scuola, noi non possiamo se non c'è una regia più ampia capace di guardare da un punto di vista più alto le problematiche del territorio, il problema del discesso idrogeologico, ecco questo mi sembra un fattore importante, quindi secondo me la prima eredità, il primo sistema per mettere radici è quello di far sì che le due città metropolitane in dialogo tra loro e in dialogo con i territori abbiano la capacità di far spuntare le radici in questo territorio. Io in questa biennale mi sono fissato un po' sui termini, sulle parole, lo faccio spesso però in questa situazione forse ancora di più, è la quarta giornata e è già a tempo un po' di bilancio se vogliamo, un termine che mi affascina da sempre, è relativo al sud, da uomo del nord che ama il sud, è la restanza, Vito Teti ha scritto, sappiamo, però forse la restanza mi sembra un termine giusto per parlare, riagganciandomi anche a te Gaetano, di quello che può essere, è sbagliato dire eredità perché è un laboratorio internazionale permanente, ma di quello che può essere questa biennale. Mi fa piacere sentire parlare di energia, di tutte queste tematiche che vanno un po' al di là dell'architettura, anche se poi l'architettura è una cabina di regia da un certo punto di vista, quindi secondo me bisogna proprio ragionare su questo, ma restanza implica anche il fatto che le persone che studiano qui vanno via per lavorare o trovare fortuna anche oggi, perché lo sappiamo benissimo che a Roma, a Milano, a Torino, a Genova arrivano tantissimi ragazzi del sud. Forse questo discorso di restare, la restanza e di dare un'opportunità anche qui per sviluppare nuove tecnologie, energie, possibilità per quanto riguarda l'agricoltura, la coltivazione, tutto quello che riguarda la terra, il territorio, secondo me è importantissimo. Non so se oggi o domani avremo anche alcuni approfondimenti riguardo questo tema. Chiamiamo il fatto che l'altro giorno, poi c'è qui Giuseppe Capicotto, Venture Thinking, c'è stato Ciccione di Entopan, quindi una realtà che ha deciso di avere finanziamenti pubblici e che sta investendo e che l'altro giorno ci ha fatto questa anticipazione, che ci sarà una grande, un player mondiale che ha deciso di investire in questo territorio come plug and play, quindi per diventare un hub importante. Quindi sicuramente questi sono gli innescati. Quindi arriveranno i giovani dal nord finalmente. Magari i miei figli per esempio. Noi abbiamo anche discusso in questi giorni, e questo mi permette di dare la parola alle amministrazioni, del fatto che Frank Boutet, che è invitato alla Biennale, che è il Grand Prix d'Urbanismo di Francia di quest'anno, che tra l'altro è un ingegnere che si occupa dell'ambiente, quindi ha lavorato sempre con gli urbanisti, più che essere urbanista, è interessante che un Grand Prix d'Urbanistica venga dato a un ingegnere che però lavora in maniera ambientale sulla città, e che è uno dei dialoghi che abbiamo fatto proprio al Biennale, e che oggettivamente anche l'Urbanistica europea con la Nord Europa, nella difficoltà di capire questo momento, dice che l'unica cosa che possiamo fare è quella di cominciare a studiare ciò che accade all'altitudine molto più basse, perché le temperature si alzeranno verso il nord in questa indicazione, quindi qual è l'equilibrio che hanno trovato? È il tema della siccità di quest'estate, che al nord siamo entrati in crisi, mentre qua è decenni che c'è nella siccità, quindi non è entrati in crisi. Questa condizione quasi ormai necessaria, pone di guardare a sud quello che è l'equilibrio dentro le difficoltà e la composità, pone ancora di più l'idea di una grande centralità da questo aperto, e quindi crea anche un grande senso di responsabilità nel dire dell'opportunità e quindi di tramutare i vincoli dall'altro aspetto. La domanda che mi viene a fare di Caterina, è chiaro, l'abbiamo sentito diverse volte in questi giorni, che per esempio Villa San Giovanni è un nodo portuario dentro un sistema, ma è uno dei primi sistemi dell'autorità portuario del sistema, che è veramente un sistema, no? Sia dal lato che è stato sdoppiato con Gioia Tauro, sia perché qua il sistema sono le due rive, ed è chiaro che voi ovviamente avete un duplice tema, uno da un lato locale, uno della città, dall'altro lato l'aspetto portuario è un tema che non può non fare squadra dal punto di vista complessivo. E quasi tutti, adesso lo butto lì, però è un tema ampio, solo per toccare un tema, si ragioniamo un po' su quello che è stato detto adesso, più che immaginare esattamente di potenziare, forse uno dei ragionamenti forti è immaginare che l'infrastruttura più forte, immaginare che questa connessione sia la più innovativa possibile, sia fatta con mezzi sostenibili, sia fatta con una frequenza maggiore, diventi più fluida, perché il vero vettore è quello, che automaticamente vuol dire anche capire quali possono essere i destini o i ruoli di ogni singola città all'interno di questa visione del sistema. Qual è il rapporto per esempio più concreto, poi che voi avete, perché Villa San Giovanni, anche chi non la conosce, sa che da Villa San Giovanni si prende il traghetto per andare a Messina, il tema della percezione, della cognizione, dell'aspetto che voi nutrite e subite da un certo punto di vista. Sì, adesso proprio questo è stato il tempo in cui noi abbiamo ragionato su una nuova visione anche della nostra vocazione trasportistica, per cui quello che si vuole creare è proprio un sistema che sia sempre rispettoso di questa vocazione, ma che il Paese non debba subirlo in quelle che sono tutte le sue risorse. Pertanto tutta la progettazione che adesso c'è in campo, anche con gli enti e con i quali stiamo collaborando, è inserita in questa visione. Voler, sì, sempre rispettare questa vocazione, ma nella consapevolezza che va tutto proiettato in un sistema di futuro più grande, ma nel rispetto del nostro ambiente, del nostro territorio, di quelle che sono le esigenze, appunto, anche di una visione strettamente legata alla vivibilità, alla vivibilità, alla sostenibilità, allo sfruttamento di tutte quelle che sono le nostre risorse. L'Atelier Mediterraneo Invisibile, la Biennale, già negli atelier che abbiamo fatto in questi giorni, e proprio detto, ha lanciato una cosa che, provo a spiegare meglio, l'idea che fosse quel masterplan strategico, quella visione strategica, non possa passare da una visione semplice di sintesi, ma molto complessa, ovvero di andare a ragionare a tutte le scale con l'idea di un grande parco territoriale urbano sulle due rive, ma che vuol dire arrivare dalla Mendolea fino quasi a Gioia Tauro, da questo lato. Un parco urbano non inteso con la parola che mette in pace tutti, perché parliamo di un parco urbano. Un parco urbano con le complessità che ci sono, che vuol dire attraversare tre punti nodali dal punto di vista navale, tre ruoli completamente diversi, tre infrastrutture completamente diverse, due rive dal punto di vista complessivo, un sistema di diversi chilometri a livello energetico. Ovviamente questo tema del grande parco territoriale vuol dire poi mettere al sistema il parco territoriale della costa, il parco territoriale delle piane, sappiamo che abbiamo il sistema del fiumare da un lato all'altro e poi quello dei crinali, ovvero la cura dei territori. Potrebbe essere anche questo l'idea di avere una grande visione, tenete conto che già per esempio in Germania e al porto oggi si sta lavorando con questa idea di uscire, di essere parte di un sistema. Lo dico anche a Reggio Calabria che fosse, adesso poi vado per sintesi a me, in questo momento una relazione più concreta in questa direzione è stata fatta, è stata fatta diciamo al secolo scolo, o comunque recentemente, quando Reggio Calabria è stata capace di togliere la ferrovia sulla sua linea di costa e creare uno dei più grandi e bellissimi, come dire, fronti a mare veri dal punto di vista di spazio collettivo, ovvero che è solo dentro una visione di ampio territorio, che solo lì si è frammentato, poi lì si può creare quelle azioni capaci di creare delle relazioni forti. Può essere questo il punto, come dire, la specie di affresco, di canovaccio sul quale poi possa essere anche più facile entrare nella complessità dei singoli nodi, perché abbiamo paura, anche per il mestiere che facciamo, che se non c'è un elemento di condivisione capace, non di risolvere immediatamente, ma perlomeno di traguardare qualcosa che abbia come obiettivo questa ricerca di equilibrio, difficilmente tanti frammenti seppur fatti bene, possono dare una risposta responsabile. Sì, allora intanto non era preparato, però sono contento perché questo significa che il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto. Noi a giugno del 2021 abbiamo approvato il PUMS, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, che non esisteva in città metropolitana. Ora tu immagina che cosa significa approvare con 97 comuni e quindi tenere dentro stakeholders, amministrazioni, agenzie, tutti coloro che avevano voglia di dire qualcosa e lo abbiamo fatto col metodo della condivisione partecipata il più possibile. Abbiamo proprio creato dei format completamente nuovi di interazione tra la città metropolitana e i 97 comuni, proprio per capire quelli che erano quei feedback che ti venivano nei territori e che cosa serviva fondamentalmente ai territori. Lo abbiamo fatto perché? In previsione di quelli che sarebbero stati i primi bandi del PNRR che ci avrebbero visto appunto attori protagonisti. Perché sto dicendo questa cosa? Vedi a Villa San Giovanni e Reggio Calabria, Villa è il più grande comune subito dopo Villa San Giovanni, ma mi dispiace affermare che sono state sempre due comuni che non si sono mai parlati tra di loro. Nonostante hanno ovviamente tanto in comune, sono due territori che non hanno visto il loro sviluppo in maniera sinergica, ma hanno ragionato come dicevo poc'anzi, ma che è un po' una purtroppo peculiarità di questo territorio, in maniera settica chiudendosi in sé. E una ricordo delle primissime mie esperienze da consigliere delegato, prima di diventare sindaco facente funzioni con il sindaco Giuse Caminiti, è stato proprio di dibattere in maniera costruttiva su quello che era il tema dello sviluppo dell'affaccio ovviamente di Villa San Giovanni e di come si coniuga diciamo con l'idea del Presidente Mega, che non voglio minimizzare nel Presidente, che abbraccia diciamo un po' quella che è un'idea di sviluppo un po' più diversa. È chiaro che su questo l'amministrazione prima, la città metropolitana dopo dovranno adesso fare delle scelte e queste scelte sono convinto che cambieranno radicalmente il nostro territorio. Sono altresì convinto che però queste scelte che andremo a fare non piaceranno molto probabilmente ai nostri concittadini. Non piaceranno molto perché sono delle scelte che vuoi o non vuoi nessuno prima di noi ha fatto, vuoi o non vuoi sono state delle scelte che hanno rimandato nel tempo, vuoi o non vuoi oggi abbiamo la responsabilità come città metropolitana e come comune di Villa San Giovanni di farle perché siamo prestati io dico sempre a Giuse Caminiti alla politica, non siamo noi dei politici di professione e vorremmo che qualcuno ci ricordasse per qualcosa che abbiamo fatto concretamente e che ha cambiato il volto del nostro territorio. Questo passa, come diceva prima l'ingegnere, anche a volte nel fare alcune scelte che ti sembrano un po' forzate ma non lo sono, ma perché a volte anche i bandi a cui noi oggi partecipiamo come amministrazione sono un po' dei bandi abbastanza stringenti che ti obbligano in un certo senso a fare delle scelte. Attenzione, scelte che devono essere fatte sempre non per abbruttire il nostro territorio ma che devono appunto portare delle migliorie e però per tornare alla domanda che mi hai fatto rispetto all'idea di questa connessione di questi punti focali ma anche qui su questo penso che siamo avanti. Noi stiamo insieme a Villa San Giovanni per inaugurare la stagione della metropolitana di superficie che tra le altre cose mi fa piacere anche ricordare che ha collaborato tantissimo l'architetto Maria Angela Cama e anche lì in una visione che non è stata campanilistica su un finanziamento che era prettamente per il comune di Reggio Calabria abbiamo ritenuto in quella fase che invece sarebbe stato opportuno coinvolgere da Villa San Giovanni a Melito Portosalvo proprio perché è importante appunto creare questa connessione con i nostri comuni. Chiudo dicendo cosa è importantissimo il ruolo che avranno i sindaci le amministrazioni in questa fase di spese di ingenti somme che arriveranno nei nostri territori. Io quello che continuo a dire non è un tema economico per la prima volta probabilmente nel post pandemia per degli accadimenti che nessuno di noi avrebbe voluto che si verificassero abbiamo la possibilità di spendere di spendere tanti soldini. Il punto è che non devono essere spesi in un modo diciamo che non produrrà degli effetti tanto per spenderli ecco perché a volte conviene prendere delle decisioni che sono anche dirompenti anche che sembrano diciamo andare in una direzione diversa che è quella della condivisione democratica però noi se lo vogliamo cambiare dobbiamo avere una visione diciamo urbanisticamente parlando per utilizzare un termine che voi architetti piace tanto provando ad andare un po' oltre quello che è il nostro che è la nostra necessità di accontentare a volte quella che è la richiesta del nostro dei nostri concittadini. La sfida secondo me è questa e la biennale può essere un laboratorio che se messo bene utilizzato bene dalle amministrazioni può anche colmare quel gap di cui parlava prima l'ingegnere che a volte purtroppo abbiamo dentro le amministrazioni di non avere ovviamente quelle strutture tecniche che ti possano far fare il salto di qualità. Questa secondo me è la sfida non ce ne sono altre. Non è assolutamente studiata ma ci dai l'assist per dimostrare cosa sta facendo e vuole fare la biennale. Noi oggi nel panel, in uno dei panel che avremo sulla batteria si acce ci sarà Bruno Discepolo, assessore all'urbanistica della regione Campania che sta affrontando temi assolutamente simili e potete anche capire cosa vuol dire la costa, diciamo la potestina paletana, avremo Svimez ovvero chi si occupa diciamo dal punto di vista del mezzogiorno, avremo il professor Moserici che sta portando avanti un progetto con l'università del Mediterraneo Medway e che sta lavorando con l'idea di poter avere nella vecchia tonnara Florio che adesso ha mantenuto il nome ma è proprietà tra l'altro di una famiglia genovese che ho scoperto sul tema di poter essere un'altra delle antenne che si va a capire dalla regola biennale, ovvero è abbastanza interessante il fatto che semplicemente contattati alcuni degli attori politici che si occupano del territorio ma anche amministrativi decidono proprio di venire qua, conferendo un po' a questo luogo una delle condizioni di confronto effettivamente positiva perché i temi, ed è questo che noi cerchiamo di dire, i temi ormai sono simili dappertutto, rispetto a 10-15 anni fa in cui c'erano delle forti differenze, ci sono le giuste differenze, ma i temi che dobbiamo tutti affrontare sono sicuramente importanti. Io mi avvierei un po' la conclusione perché il caffè è un caffè che dovrebbe essere non con troppo caffeina perché poi ci aspetterà una giornata intensa. A me sembra se posso poi Giorgio Dimite, però lascio anche a Gaetano e all'ingegnere se vuole aggiungere qualcos'altro o visto che c'è un sindaco se vuole inserirsi anche per chiusura comune, il processo che noi stiamo facendo da 4 anni è di attivare un percorso di conoscenza a tutti i livelli perché l'unico modo per prendere coscienza è attivare una conoscenza, è la più trasversale possibile. La sensazione che noi abbiamo in tutti questi giorni ancora e dopo questi viaggi è che comunque questo dato esiste, lo diciamo molto sinceramente perché poi come sapete sono calabro genovese quindi insomma uniscono un aspetto sentimentale forte con un aspetto anche molto programmatico di una città come Genova e va detto come dire detto dallo sguardo di tutti gli attori che c'è un tempo maturo seppur difficile e complesso che non bisogna disperdere e i temi che avete detto stamattina vanno a convergere così come le figure che stanno arrivando in qualche maniera a manifestare un'esigenza che c'è bisogno di una progettualità diversa. Io sono architetto ma se ci fate caso, se ascolterete poi i video che pubblicheremo in questi giorni pur essendoci non parliamo mai tra i problemi di architettura perché se parliamo troppo di architettura siamo un discorso tra architetti e questa è la visione che noi vogliamo evitare, che siamo ok, vabbè ok, ma parliamo di progettualità perché la prima azione trasversale, insignificativa, municipale è questa, quella di immaginare che oggi progettare ha bisogno di questa condizione che mette in gioco nello stesso tavolo e cominciamo a vivere Messina che non vuol dire che dialogare vuol dire andare d'accordo ma vuol dire lavorare tutti verso il senso del progetto. Quindi io farei chiudere questa seconda però adesso poi ne faremo altri magari nei momenti invernali perché avremo un altro momento significativo a metà novembre, due o tre giorni che però saranno già una giornata di incontri e una giornata di atelier operativi, ovvero con le amministrazioni strategiche per capire come arriviamo un po' alla chiusura il 15 dicembre e quanto saremo bravi tutti a programmare i prossimi tre anni perché o entro fin anno si programmano bene i prossimi tre anni o se no è stata una bellissima avventura, bisogna anche essere molto molto sincero. Io tantissimi anni fa avevamo vinto un concorso relativamente al piano di fattibilità della pedemontana Iblea, a Ragusa, dove la Comunità Economica Europea dava 400 milioni per restaurare e sistemare la pedemontana straordinaria del barocco. Il risultato era tale per cui lo studio fatto da mesi su quell'area diceva che comunque per quanto si potesse andare a insistere a migliorare l'incidenza di un maggior traffico sarebbe stata talmente bassa che non era significativa e quindi coraggiosamente noi abbiamo fatto con Strider Vesky Livre, il leader mondiale dei trasporti, abbiamo detto 400 milioni per la metà Iblea non servono a nulla però se volete noi abbiamo fatto uno studio dicendo che l'aeroporto di Comiso dall'aeroporto militare deve diventare invece un aeroporto per fare collegamenti. Quindi siamo andati alla regione che da un lato è anche interessata del fatto che Ragusa non non volesse questo ricesse, sarebbero stati sprecati perché avrebbero aggiunto 24, per dire la risposta è no, ma attenzione che con la risposta è no porta uno sguardo diverso su un'infrastruttura che invece è potente otterziata. Dico questo per quale motivo? Da qui a fine anno, lo sapete, lo stiamo ribadendo sempre, non è che va bene, ma è più onesta anche dire no e poi rivedersi. Se è sì, deve essere un sì, come dire, che non può non programmare tutte le cose che stiamo dicendo. Quindi ti passo la palla così in mani a te che è un'esaltazione di avere oltre ai caffè magari dei pranzi, dei cene prossimamente. Grazie, grazie Alfonso. Assolutamente sì, sapevamo che questo primo appuntamento sarebbe stato dei caffè e poi a novembre dobbiamo necessariamente concretizzare e fare il punto della situazione. Io volevo semplicemente ringraziarvi per questa occasione e anche per l'occasione che è stata data alla città di Villa San Giovanni di questi due momenti, quello di sabato e quello di stamattina, fare riprendere l'assist che ha lanciato il sindaco della città metropolitana, Carmelo Versace, che dà sia su Torre Cavallo sia sulla visione trasportistica della città di Villa San Giovanni e che credo dia il senso compiuto di quello che è il lavoro, il cammino in cui queste comunità si sono, diciamo, che hanno intrapreso queste comunità nel giro degli ultimi anni. Perché Torre Cavallo, la firma che ci ha anticipato il sindaco Versace, viene all'esito di un percorso di cittadinanza attiva vero, importante, che ha coinvolto tutti i professionisti della città di Villa, che ha voluto riconoscere in Torre Cavallo il sito, diciamo, archeologico per eccellenza, che sia rappresentativo del territorio e lo ha fatto al di là di quello che poteva essere un momento di vulnus politico-amministrativo. Si è deciso comunque di rimanere comunità, di andare avanti in questo percorso e oggi arriva quella firma che poi sarà un assist per l'amministrazione comunale per la valorizzazione del territorio. E non è un caso che, come diceva la Presidente Trecroci, dal sentiero di Torre Cavallo comincerà la prima sperimentazione di illuminazione fotovoltaica nel comune di Villa San Giovanni. E non è un caso che stiamo tutti parlando e lo abbiamo fatto da quando ci siamo incontrati all'indomani, anche noi siamo un'amministrazione del 13 giugno, ce lo siamo detti sabato. Lo abbiamo fatto da quando ci siamo incontrati per la prima volta, dicendo noi ci siamo. E allora noi ci siamo nel senso che ha detto Carmelo Versace nel senso del dialogo, nel senso della costruzione, ci siamo nel senso delle scelte impopolari, perché noi siamo convinti che anche il metodo di acquisizione e di utilizzo delle somme non debba essere quello che è stato utilizzato fino ad ora. Ci sono e li spendiamo. No, li spendiamo se possono portare ad un futuro, ad una visione, ad una sostenibilità dei nostri territori. È ovvio che questi territori hanno bisogno di non perdere un centesimo di euro. Questo ce lo siamo detti più volte, hanno bisogno di intercettare tutti i finanziamenti, hanno bisogno di recuperare quel gap da tutti i punti di vista, che purtroppo portiamo tutti sulle nostre spalle. Ne hanno bisogno soprattutto ora perché sono territori fragili dal punto di vista economico, ma non sono territori fragili e me ne può dare atto il sindaco Versace dal punto di vista della proposta progettuale. I nostri sono i territori forti dal punto di vista, perché sono i veri territori resilienti ed è per questo secondo noi che meritano di spendere questi fondi del PNRR, perché qua ci sono le professionalità, ci sono le capacità. Forse c'è un deficit in attrattività imprenditoriale, ma voi oggi ci state dando un'ottima notizia. Ieri ci avete dato un'ottima notizia. Allora assolutamente ben venga l'idea della Biennale dentro la cabina di regia. La città di Villa ovviamente si candida ad ospitarvi a novembre. Noi ci siamo per come ci siamo detti, ci siamo per i tavoli. Sappiamo che deve partire una visione diversa, l'abbiamo detto in campagna elettorale, col sindaco Versace che è stato accanto a noi e cioè non dobbiamo più immaginare che una visione reggio centrica finisca per depauperare Villa San Giovanni dal ruolo. Perché invece in questo circuito di continuità territoriale, Reggio, Villa Messina, Villa e Baricia Entrica, Villa e Pedonale, Reggio e Messina giocano un ruolo diverso come città capoluogo, come città metropolitane. Ci siamo nella peculiarità di questo territorio che va valorizzata dal punto di vista trasportistico, lo diceva bene la Presidente Trecroci, non vogliamo rinunciare alla visione trasportistica di questa città perché per 50 anni nel bene e nel male ne abbiamo pagato un prezzo. Siamo la città dell'attraversamento, siamo la città che non l'ha saputo valorizzare questa sua assoluta strategicità logistica e adesso vorremmo essere in condizione di poterlo fare. Ci sono tutte le premesse, c'è la possibilità perché la città metropolitana ha lanciato, è stata la prima ad aver trovato, e non possiamo non darne atto, ad aver trovato i fondi per la progettazione del porto a sud rispetto alla città di Villa San Giovanni. In quel dialogo confronto, io non ero ancora amministratore, che io ho avuto con Carmelo sulla localizzazione che poi è finito in una maniera ovvia, è quello a cui ci richiamava Alfonso Femia, cioè facciamoci proporre le alternative e decidiamo le alternative non che siano più popolari per il nostro territorio, ma che diano una prospettiva al nostro territorio. Grazie. Grazie Giusy, chiudo solo per farvi annotare un piccolo dettaglio che è significativo, è la Biennale dello Stretto, ovviamente viene dialogato con le città metropolitane, ovviamente parte da Falcomatà, da Maniaggia la Cama, da un dialogo in questi anni con la città di Reggio, però la città di Reggio, grazie a Carmelo lo ricordo, la Biennale si sta sviluppando due mattinate dense a Villa San Giovanni, la sede, tra virgolette, del luogo deputato di investimento a Campo Calabro, siamo stati una mezza mattinata su una terrazza del Museo Ecologico, ma guardavo sempre lo stretto, sembrano dettagli ma non sono dettagli, nel senso che già la città metropolitana ha dimostrato in maniera concreta che la Biennale, che è un elemento sul quale ci stiamo tutti concentrando, non è reggio centrica, ma anzi sta già mettendo al sistema e al territorio, e questo è un aspetto che va ricordato, va detto, perché non è per nulla banale, noi non diamo per scontato nulla, ed era uno dei temi nel momento in cui abbiamo individuato Campo Calabro, se questo non poteva costituire situazioni particolari, perché ovviamente quello è un posto magico, però sappiamo poi quali possono essere diverse logiche, non perché la sede potenziale, diciamo, di la sede, comunque la sede di questo evento, perché è quello dove si è concentrati maggiormente, dovesse essere a Campo Calabro. Quindi questo vuol dire che c'è già una cultura del dialogo forte, ma un cambio di sguardo importante. Io ringrazio tutti e vi invitiamo ovviamente a Forte Bariassacci, che come ho già anticipato avremo una giornata molto molto di nuovo intensa, tra cui avremo, dopo aver avuto il Grand Prix de France, il Grand Prix d'Urbanismo Franciano, oggi avremo il Grand Prix d'Urbanismo Spagnolo, avremo Carmen Santana, che ringrazieremo perché ha fatto un giro, come dire, transoceanico per essere oggi qua con noi a Campo Calabro, che ci racconterà tutta una serie di eventi che vanno dal nord della Francia fino a Barcellona. Grazie.